No, non mi permetto, va bene, allora portami la macchina, io ti pago pure il passaggio di proprietà, dimmi, io non ci penso nemmeno, non ci penso nemmeno. Certo, certo, vai dai carabinieri, portami la macchina, portami la macchina ai 4.000 euro. Io non vi torno niente perché se vuoi siete stato scorretto. Sì, certo, con una segna a vuoto, complimenti, sei un attore, complimenti, sei proprio bravo. Io con tutto ciò l'ho chiamato. Sì, sì, ma tu mi hai chiamato per dire cosa, per intimidirmi, per minacciarmi? No, tu mi stai minacciando, mi stai minacciando, mi stai minacciando credendo che io sto tranquillo e non vado più dei carabinieri? Oppure che devo fare? Benissimo, registrami, registrami, bravo, bravo. Tu mi hai fregato la macchina, carissimo, mi hai fregato la macchina, mi hai fregato i soldi, mi hai fregato la macchina. Tu contavi nel solito silenzio di tutti, tu contavi nel silenzio di tutti perché ci sei abituato. Io non sto zitto, io credo nella magistratura, credo nei carabinieri, credo nella giustizia. Tu non hai questi problemi, tu sei abituato ad altro, capito? Tu ci sei tranquillamente abituato, non hai problemi. Tu non sei a posto niente, tu hai fatto un assegno falso, hai fatto una montatura di un bel filmato con tutta quella macchina, quindi sei in gamba, sei bravo a fare queste cose. Quindi, sì, no, eh, figurati, io l'ho aspettato fino anche, fino anche, perché la banca prima ci ho creduto che era pure l'assegno, figurati. Ciao, 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 ciao.